E' arrivata la mia borsa dell'università, quindi facciamo l'unboxing insieme. Anzitutto ero indecisa tra quattro modelli e raga, alla fine ho scelto lei, anzi ne ho scelti due, però l'altra mi devo ancora arrivare. E il brand che ho scelto è il brand Polen, che io adoro veramente da un sacco di tempo e hanno cambiato anche il design delle loro scatole. Ma questa borsa per l'università è veramente super chic, molto elegante, ma soprattutto capiente. Abbiamo già un piccolo spoiler con questo cartoncino. Ovviamente all'interno c'è anche la sua dust bag e la borsa in sé, no vabbè. Ta-da! Eccola qui in tutta la sua bellezza, in realtà l'aspetto è un po' più grande, però è veramente super capiente. E oltretutto lo scelta in questo colore veramente molto neutro, in modo tale da poterla abbinare veramente con tutto. Ed è appunto la borsa di Polen, il modello di cui non mi ricordo assolutamente il nome. Quanto cavolo è bella! Io sono completamente innamorata e oltretutto questa è la fase della mia vita in cui rinuncio alle borse piccole, preferisco le borse super giganti. All'interno abbiamo anche la pochettina piccolina dove andare a mettere tipo le chiavi eccetera, una cosa super super comoda. Questo è tutto e uno dei prossimi giorni magari vi faccio vedere qualche fettino utilizzando queste due cose. Ciao! Ciao!